Alta 1,70 m, raffigura una dama vestita in maniera classica, mentre tiene tra le mani una catena spezzata. È la polena della fregata Italia e del bel paese vuole essere la degna rappresentazione al femminile. Uno dei pezzi forti del Museo Tecnico Navale della Spezia e, ad un anno di distanza dall'avvio dei lavori di restauro, si è rappresentato ufficialmente al pubblico sabato prossimo alle 11 al centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra, che l'ha ospitata per tutto il periodo dei lavori. Oggi è quindi il momento di bilanci per un'esperienza unica e originale. Un restauro che, come diceva, è partito un anno fa, quindi ha impegnato un anno, non quotidianamente, ma con molte ore di lavoro alla settimana. Le difficoltà sono state tante, ma anche le soddisfazioni. Migliaia di visitatori che sono andati a vedere cosa stava succedendo in un locale appositamente allestito, migliaia di bambini, delle elementari che sono venuti a visitare la Polena e quindi questo è già un risultato straordinario. Proprio le scuole sono state tra le principali protagoniste del progetto. Da qui l'idea del concorso letterario C'era una volta una Polena riservato agli alunni delle scuole primarie del territorio, chiamate ad inventare fiabe racconti sulle Polene. Abbiamo selezionato, con letture separate, anonome, con tutti i criteri, diciamo, per fare le cose per bene, una serie di racconti che sono stati raccolti nel libro, insieme alle illustrazioni fatte dai bambini e sabato c'è anche questa parte molto importante. La giuria del premio è presieduta da Beppe Mecconi. Ma quali sono state le difficoltà incontrate durante il lungo lavoro di restauro? Le difficoltà principalmente sono state nella rimozione di questi strati intercalati tra i diversi colori, 11 strati di colore, che sono delle mestiche a base oleosa e resinosa, che chiaramente dovendo reggere il mare erano durissimi. Il lavoro è stato realizzato tutto meccanicamente, cioè a bisturi, e quindi è stato molto lungo. In questo modo siamo riusciti a recuperare la stesura originale, cioè quella con cui la Polena Italia fu inaugurata nel 1861. Dopo un anno di lavori, quindi, la Polena Italia torna a casa, arricchendo una collezione già di per sé pregevole. Una collezione pregevole, una collezione di 28 polene più alcuni fregi, che nel prossimo futuro, ritengo anche breve, saranno ancora più valorizzate di come erano prima. Quindi è un salone dedicato alle Polene e alla loro storia. Museo attualmente anch'esso in fase di ristrutturazione, ma ormai prossimo alla riapertura. Mi ipotizzo un mese, un mese e mezzo per poterlo riallestire, almeno il salone principale. Successivamente ci vorranno ancora qualche mese per l'allestimento completo della sala delle Polene.